attenzione diego cavartassi è un paia tacatona sul piede E' l'osso! Salta! Salta! Buongiorno. Hai sale siste. Lo pro ce are. Quattro, si è il luogo! Ma partite con noi. Achea! Oh! Wow! Alla Zanchi, vedi! Niente Diego, non ci prova neanche. Basta! Basta! Viaggio! Cioè, dimmi prima le basi dell'impennata. Allora, peso indietro, braccia tese. Peso indietro, subito. Sì. Ok, braccia tese. Braccia tese e piedi in movimento. Piedi in movimento? Sì, a contrastare l'equilibrio che va cadendo. Ah! Vedi? Ok. Ok. E poi vai. Ho capito. Devi solo continuare, adesso non te la faccio vedere, no? Ma ci posso provare? Certo. Ti faccio vedere un'ultima volta. Vai. Qui si chiude, vedi? Oppala e poi vai. Ma devi anche andare un po' a sinistra. E poi vai. Prova, fammi vedere. Eh, anch'io vado a sinistra, è vero? Vedi, adesso andavi un po' a destra. Ah, sì. Credo di andare a sinistra, devi cercare di controllare la tecnica. Ah, ah. Con i piedi, quando fai così sulla pianta. Sulla pianta. Eh, sì. Ma doia. Allora. Adesso? Allora, su! Andiamo. E' lato spazio? Allora, sono arrivati. Sono arrivati. Allora, lì. Allora, sono arrivati tu. Allora, a vado. Vai, vai, vai Luis, vai Luis! Bombardieratta! La Spirita! bella allora come amici è stra tecnica ma dopo il momento non so come cazzo finisce la discesa ma ma che ragazzi vai con le scuole ah buccato morbido 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 lascia scorrere fluido 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 ok adesso andiamo a fare un sentiero nuovo che nessuno ha mai fatto si chiama castagno vediamo un po' com'è ho detto che mancano delle curve attenzione non va non va ci riprova niente da fare attenzione ciao 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 Yeah! Prova! No no! Ma come sono? Veli per uno zancho? Veli taglia tutto! Sì, vabbè! No, scontriamo! Stai alzo! Stai alzo! Vai a sinistra! Ehi! Occhio! Uh! Che bruno! Tecnico questo! Mamma mia! Quanto è radicale! Mamma mia! Allora... Da salvassare però è figo! Abbiamo trovato tutto il sentiero così con curva al vomito Questo era il meglio che si potesse fare È di uno sketchy! Bello! Questa oggi è mancata! Beh! 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 Esali! Oh! Occhio! Sei un bastardo! Raghi! Non, tu sei un bastardo! ma che bello scusa quindi qua faccio vedere anche le cose turistiche non ci credo qui ci sono la ghezza della madonna un po'